9 presenti, 2 giustificati, 7 assenti. La conta dei consiglieri regionali di Forza Italia che hanno risposto alla convocazione di Luigi Vitali la fa lo stesso neocommissario del partito. Manca il capogruppo Ignazio Zullo, l'assenza forse più pesante. Come separati in casa lui e Vitali questa mattina in consiglio regionale, il commissario impegnato nell'incontro con i colleghi al primo piano, Zullo al secondo come uditore in commissione sanità. Vitali mostra l'invito che avrebbe rivolto a Zullo per convocare l'incontro. Invito dice ignorato. Berlusconi è molto amareggiato del caso Puglia, racconta Raffaele Fitto deve presentare una lista e deve finalmente impegnarsi nella campagna elettorale pugliese. Se Fitto non fa la lista che io mi aspetto da lui, non perché debba mettere i suoi che io non candido, ma perché lui l'ha sempre fatta, si assumerà una gravissima responsabilità nei confronti della Puglia e degli elettori. Anzi a Fitto io rivolgo un invito. Lui è europarlamentare del Mezzogiorno, eletto con una messa importante di voti in Puglia. Io lo voglio in Puglia a fare la campagna elettorale perché in Piemonte e in Veneto onestamente non so quale tipo di contributo possa dare. Mediata la replica di Ignazio Zullo, niente minacce, nessuna lista alternativa al partito per i fittiani. Non abbiamo l'idea di una lista Fitto. Io vorrò essere candidato dentro Forza Italia. Chiamerò a raccolta tutti i miei elettori affinché possano levare la voce perché io sia candidato dentro Forza Italia. A mezzogiorno si riunisce il tavolo della coalizione di centrodestra che sostiene Francesco Schittulli. A sorpresa arriva anche lo stesso Vitali. I partiti preparano la convention di domenica prossima per la presentazione ufficiale del programma. Pare ci sarà il fedelissimo di Berlusconi, Giovanni Toti. In tanti aspettano ora di vedere se parteciperà anche Raffaele Fitto.